Buonissimo, sono contento, mi piace molto Oliveri, mi piacciono molto questi posti naturalmente dove venivo a cantare già 40 anni fa, le feste di piazza, dei ricordi meravigliosi gente stupenda, bellissima e peccato che poi sempre tutto un po' di fretta si viaggia, si va, soprattutto d'estate per cui è tutto un po' velocizzato beh l'ho vista adesso e ricordo famelico perché avevamo molta fame, siamo venuti a mangiare e si mangia molto bene, benissimo, è stato molto bello, eravamo io, Johnson Righiera poi c'era Tracy Spencer, Neysia e un sacco di artisti, è stato molto bello grazie a tutti gli amici di Expo Oliveri, ci vediamo l'anno prossimo che voglio venire sarò la mascotte della fiera, un abbraccio, ciao! Dalla fiera di Oliveri, arrivederci alla prossima stagione, ciao!